Col cavolo lo troverete. Ha ben due giorni di vantaggio su di voi, che per lui sono anche troppi. Vado alla amici in tutte le città e i villaggi da qui fino al Sudan. Pagdon la decina di lingue, conosce tutti i costumi del posto. Si nimetizzerà, scomparirà, non lo rivedrete mai più. Un po' di fortuna abbracciate su il calice della speranza. C'è qualcuno che parte la lingua o anche gli dirego il rico? Un po' di fortuna abbracciate su il calice della speranza.